E ancora per pochi giorni nelle sale del municipio di Casagalenda sarà possibile visitare la mostra fotografica sulle passioni sportive del paese dagli anni 50 in poi. Con questa mostra ricorreremo soprattutto dagli anni 50, 50-60 dove si è fatto parecchio calcio. Ogni paese aveva la sua squadra di calcio quindi era molto seguita e poi successivamente negli anni 70 sono venuti fuori i giochi della gioventù, un grosso risultato a livello nazionale che ha portato a aumentare moltissimo il numero dei praticanti. Abbiamo praticato anche atletica, tennis, ciclismo, sci di fondo, poi successivamente negli anni 80-90 è venuto fuori anche la palacanessa dove abbiamo partecipato a un campionato di C2 con squadre di Roseto, L'Aquila, Pescara, insomma un campionato impegnativo. E' cambiata moltissimo l'impiantistica, abbiamo tanti impianti qui a Casagalenda, fortunatamente. Prima invece, io mi ricordo la mia esperienza negli anni 70, si faceva atletica ma si faceva su dei terreni sconnessi dove tutto era aranciato, però alcuni risultati sono venuti lo stesso. La mostra espositiva promossa dal docente di scienze motorie Vincenzo Di Lazzaro resterà aperta nei locali del municipio fino al 30 settembre.